Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Perla Vatiero e Mirko Brunetti, noti per la loro partecipazione a Temptation Island 2023 e all'ultima edizione del Grande Fratello, hanno annunciato la fine della loro relazione. Dopo aver utilizzato i social media per comunicare la separazione, i due ex partecipanti al Grande Fratello stanno ora ricostruendo le loro vite da single, attirando l'interesse dei fan e degli appassionati di gossip. Perla è stata la prima a pubblicare un post su Instagram annunciando la separazione, seguita da Mirko che ha confermato la rottura, sottolineando l'importanza di crescere insieme senza ostacolarsi reciprocamente. Questo annuncio ha segnato la fine di una relazione che aveva catturato l'attenzione di molti. Dopo la separazione, Perla ha rivelato di essere in terapia per affrontare l'ansia causata dalla rottura e ha deciso di prendersi una pausa dai social media per proteggere la sua salute mentale. Nel frattempo ha registrato una perdita di follower rispetto a Mirko, che sembra affrontare la situazione in modo più riservato. Perla ha deciso di prendersi una pausa dalla routine quotidiana con un viaggio a Mykonos, mentre Mirko sembra ricostruire la sua vita lontano dai riflettori. La separazione di Perla e Mirko è esercizata a Speravic per la curiosità sulle prossime mosse, sulle guenze e molte volte.